... del Rocco Slea, l'Ungria, Guadagnino, dove è il primo evento per l'apertura del Milano Expo 2015 sulla direzione di grande critico dell'arte del nostro mondo, Gianmarco Puntelli. Adesso stiamo qui a questo museo di Rocco Flea insieme con la principale assistente amministrativa e culturale di Gianmarco Puntelli, Anna-Lisa Sacchetti, molto grande privilegio, complimenti per la tua arte, mi ricorda molto un nuovo rinascimento, e spero che il tuo modo di fare arte sia l'inizio di un'arte vera, di un'arte che arriva nel profondo del cuore delle persone, sempre guardando quella che è la tradizione del passato. Grazie Alexander. Grazie. E anche grazie a Gianmarco Puntelli.